Oggetti intagliati nel legno, ceste, collaneo d'orecchini luccicanti, decorazioni natalizie sono state tantissime le varietà di oggetti proposti a Maresche in occasione della due giorni del mercatino avvenuto alla vigilia delle feste. Alla sala della Coppa del paese della montagna pistoiese si sono così ritrovati artigiani locali e non solo che hanno proposto il frutto della propria creatività. Un'occasione per tanti per scovare qualcosa magari da donare sotto l'albero. Questa iniziativa è nata dalla volontà di fare delle belle cose per la nostra Maresca e per tutti i cittadini. È un mercatino di artigianato, artigianato di qualità, io direi anche di alta qualità perché ci sono cose di diversa natura e diversa fattura. Ce n'è per tutti i gusti, dai lavori in legno, i lavori in ulivo, i lavori per Natale prettamente, c'è la bigiotteria, bigiotteria pregiata, ci sono dipinti, icone e lavori con i tessuti. Grazie. 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 Grazie.